Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo puntata che sarà praticamente sul test video in HD+, che è la funzione di questa telecamera che sarebbe nient'altro che l'HD a 60fps e praticamente andremo a fare il test video di questa telecamera con il 60fps allora intanto proviamo lo zoom, lo zoom è già aumentato, dovrebbe essere, anche se sinceramente non lo vedo tanto aumentato com'è però come possiamo notare le immagini già in digitale riusciamo ad andare però come vedete lo stabilizzatore non c'è quindi fa veramente schifo però possiamo vedere comunque che i colori restano ben dettagliati anche con il 720 e non più con il nostro 1080 che utilizzeremo solo per questa videocamera però come vedete sono molto belli e molto dettagliati comunque ci vediamo alla prossima recensione che sarà sul 720 30fps ciao 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 ciao